Alla dove? E' il cazzo che mi cambia per fare Siccome avevo voglia di provare sta palette Perché vi devo fare questo video Che ora erano tipo le otto E' partito il gatto e scappa Ce l'hai di fuori Erano tipo le otto E si stava per facciare e ho detto io voglio provare sta palette Sono partita e sono andata a farmi il trucco Allora Tutte avete usato Le mie ciglia finte di ieri Ve le faccio Ho mangiato troppo Come al solito Ve le faccio vedere Capelli fluenti Aspettate Perché quelle che ho su stasera sono altre Ma anche queste le avevate già viste Però sono vecchie Probabilmente ne siete dimenticate Che va sotto Allora ho perso la loro scatolina Perché probabilmente il mio amico Filippo Perché gli voglio tanto bene naturalmente L'ha buttata Voi sapete dove cacchio l'ha buttata E vi avrei fatto vedere la sua Però insomma le ciglia sono queste Quelle che invece ho su sono le Lotus Che mi mandarono quando stavo a Caldana Queste sono le 510 Io poi ho altri due Altre due Ma è là che capelli di merda Meno male Ieri ho detto che dicevo meno parolacce Poi ho le 99 E le 308 Ve le faccio vedere perché so Strafighe Naturalmente sono fatte Con capelli veri E vi lascio comunque il sito Nell'info box della Lotus Queste sono quelle un po' più Allora Allora Vi parlerò soltanto di una palette oggi Perché il resto comunque Non l'ho ancora testato E così Vi lascio nell'info box I vari dettagli Cioè io scusatene Ho dei capelli che so Orribilanti C'ho le mie corna rosa Perché naturalmente Ora arrivano i messaggi Cioè io spero che non sia vero E non le leggiate Così ok Io ve le farei vedere sul letto Allora E poi farò un altro video Che comunque posterò quasi subito E poi vedrete Allora eccola qua Io ho la luce contro Spero che vediate qualcosa Con sta cazzarola Veloce Vediamo Ci sono proprio Un pigiama Allora eccola qua La nostra Huda Beauty Io oggi avevo detto Pure ad Aline Guarda stasera non giro video Perché comunque cerco un altro vlog da mettervi Ma vado in astinenza dal video E questa è veramente una cosa E poi non faccio trucchi così Se devo uscire non li faccio Perché quando dobbiamo uscire Faccio sempre di fretta e furia Siamo a 3 minuti e 30 ancora Non ho detto una mazza Ok Huda Beauty Eccola qua E' palesemente identica a quella vera L'ho pagata L'ho pagata 3 dollari e 80 La confezione è questa È perfetta Troviamo tutte le nostre scritte perfettissime E all'interno troviamo Questa è la Desert Dusk Palette Perché ho anche l'altra Che però dovrebbe essere quella vecchia Di Huda Ormai l'ho presa tutte e due All'interno c'è il nostro Cosino che ora lo butto E All'interno c'è Lo specchione E i colori Ok non vorrei rompere la palletta La palletta Scusate non vi vorrei interrompere Dai amore Dammi 5 minuti Su Allora Questi sono i colori Basta 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 C'è pronto Questo è Ugo Naturalmente Questi sono i colori Come vedete è fatta pure molto 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 bene Allora Io ho usato stasera Musc Amber Ode Saffron Angeli E Demony E Blood Moon Allora E' veramente buona questa palette Perché è molto pigmentata Allora aspettiate Nel senso Non è che è una palette che fate una strusciata E va a pare No Però nel senso Quella che costa 64 euro Sarà sicuramente più pigmentata C'è quella vera Ora vi fa un rutton diretta Rutton terra anche la macchina Ho veramente mangiato troppo E c'ho uno stomaco gonfio Fatto la porta fuori Ugo Di modo che facciamo una bella camminata Ehm Amore Stasera mi volevo fare pure i capelli Vabbè Ehm Anche il viola eh Ce l'ho messo In fondo ma non si vede molto Comunque devo dire che Per averla pagata a 3 euro e 60 E' valida Mentre un'altra che ho preso Devo dire che me l'ha lasciato un po' a desiderare Io ho delle palette Anche quelle da 180 colori Che si pagano una miseria Anzi avevo una palette Che sicuramente Ucce baldo Non ce l'ho fatta a chiapparlo Che sicuramente Non ho qua No infatti Non ce l'ho qua Che però E' veramente veramente valido Ah vi ricordate la palette Quella di tutti i colori marroni Che avevo io Che usavo nei primissimissimissimi video Non so se ve la ricordate Che aveva tutti i marroni splendidi Bellissimi Bellissimi Ecco Quella palette Comunque pagata a 3 Ucce cazzo che ne ho preso Pagata a circa 3 dollari E 80 E 80 voglia di crescere Non me lo ricordo Però aveva una pigmentazione Nonostante fossero dei matt Esagerata Come ho sempre detto In queste palette Le scimmie erano Una pigmentazione maggiore Ma di solito meno Comunque questa E' buona A me è piaciuta Quindi è valida Allora vi faccio qualche swatch veloce Allora questo è Desert Sand Nonostante tutto Non sono neanche troppo Polverosi o ombritti Allora Questo è Desert Sand Ora io però purtroppo C'ho la luce a picchio E voi non vedete una mazza Veramente niente Vediamo così Allora questo è Desert Sand Poi c'è Musc Muscocacchi Che è quello lì che ho usato io Per fare il colore di transizione Poi c'è l'arancio Questo spacca Eccolo qua L'arancio Spacca di brutto Il rosso Non ne parliamo Ode Il viola Amethyst Che non è un granché Il viola è molto leggero Come vedete Allora quasi Ma tutto sta In quelli più leggeri A passarveli più volte Cioè nel senso Prendete il prodotto E lo passate Soltanto più volte Rispetto agli altri Che picchiano di più Saffron Che è sempre questo arancio Che è praticamente identico all'altro Sono un po' più scuro E poi c'è Blazing Che è l'altro arancio ancora E questo è Fosforishwende E questi devo dire che sono i matt Belli I matt Sono belli Mi piacciono Vi faccio vedere qualche swatch Di quelli Madonna non c'ho Le salviettine Non sono più attrezzata Porca puttana Vediamo un po' Allora Io ho usato Blood Moon Che è questo Allora vediamo dove Ve li metto qua Allora Questo è Blood Moon Ok Poi c'è Poi c'è Nefertiti Cioè non vi voglio fare niente Di troppo lungo Perché c'è il vomito Di questa palette su Youtube Questa è Twilight Ah mo' Ma ridi col gatto spero Ok perché Poi c'è Kashmir Che è questo grigio qui Che è anche bello bello Mi piace Poi c'è Poi c'è Royal Che ha questo Retrograd Che è questo celeste chiaro E poi E poi Abbiamo Angelic Che è quello che ho usato io Oh Ti si vede eh Poi non ti lamentà Questo Poi c'è Cosmo Si va praticamente Ve lo sono sbocciati praticamente tutti E Tourist Twilight Tourist Twilight Che è questa specie di rosato corallo Allora Allora Come vedete Gli swatch Sono Belli Eh La palette Pagata a 3 Facciamo 4 dollari Perché Eh Ce n'è un botto Però dobbiamo Devo vedere se comunque Quella che ho preso io c'è ancora Se non c'è Madonna Mi sono da una flashata all'occhio Non ci vedo più niente Se quella comunque non c'è Ve ne metto un'altra Comunque questa è la palette Spacca di brutto Per chi non ha 64 euro da spendere Secondo me questa è più 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 che valida A differenza Di altre cose che poi vi farò vedere Io di solito con i dupe Mi sono sempre trovata bene Con i fake Non con i dupe Con i fake mi sono sempre trovata molto bene Poi è in cartone A me le palette in cartone piacciono In cartone Molto E basta Sulle labbra ho Kiko 02 Comunque Eh Vi lascerò sempre da qui in avanti Nell'info box I prodotti che uso per il viso Perché sto rispondendo a 850.000 messaggi Sempre le stesse cose E andate a leggere in info box E E basta Non ho altro da aggiungere Perché le altre palette le voglio provare per bene Va bene Bambole Non vi ho fatto il trucco Perché comunque è una cavolata Cioè nel senso Ve lo faccio vedere così Cioè vedete È un tono più chiaro Un tono un pochino più scuro È proprio una fregnata Cioè non è che è un trucco bello È una cavolata Cioè quindi Anche perché con questi colori Beh non male I trucchi sono sempre gli stessi Perché i colori sono sempre quelli Cioè No i colori sono sempre quelli Però come vedete le tonalità sono quelle Specialmente in questa Che questi più chiari È argo È argo È argo Sì Specialmente quelli più chiari Spiccano un po' meno Però Top del top Va bene Io spero di esservi stata Utile Vi lascio nell'info box Tutto ciò che vi servirà Per essere istruite della palette E basta Non ho altro da dirvi Non mi voglio prolungare troppo Anche perché sono quasi le 10 Dobbiamo portare fuori Pancrazio Funghezio Una l'altra mattina Mi ha fatto Cami ma com'è che si chiama Stoana alla fine Cioè Stamattina abbiamo fatto Una live su Instagram E mentre si faceva Si è spento il cellulare E Cercherò di farle più spesso E le vorrei fare qualcuno Anche qui su YouTube Però mi dovete dare il tempo Di capire un attimino Come funziona la situation Eh Vi vorrei poi parlare Di un'altra palette Allora Questa poi è comunque Molto simile alla realtà Nel senso I colori della Uda Questa Devo guardare sto pallino Ma io non ce la faccio Guardare il pallino C'è un pallino Mi guardo in faccia Per quello che mi distrago Via Ugo Dove vai amo? Via Dai arrivo Ehm I colori della Uda Sono molto 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 Simili alla realtà Lo stesso Quelli dell'Androgeni Che mi è arrivata Il giorno prima E anche questa È molto valida Vi farò Fatemi sapere se vi interessa Comunque penso Io vi volevo fare Un video intero Di tutti i dupe Ma infatti poi Il resto dei dupe Ve le metterò Ancora sti dupe Agami ancora sti dupe Cioè ma Sei dei coach Sti fake Però Un altro fake Che mi è arrivato Di cui non sono molto stata Invece contenta È il Modern Reina Reinaissante Della Anastasia Della quale vi faccio vedere subito una cosa Che anche questa l'ho pagata una fesseria Anzi questa è quella che costa meno 3,50 Allora come packaging È favoloso Qui c'ha la La Il vellusino Dietro è Perfetta Si apre E io infatti ci sono rimasta quasi un po' Deficiente Perché ho detto ma Sempre dentro il suo aggeggino Il suo specchione Ecco Ho rotto un colore Stai mi ci incazzo di brutto quando metto i diti nei colori Allora Questa c'ha pure il pennello Allora I colori di questa Sono questi E se guardate bene Anche solo dietro Vedete Sono molto 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 diversi Per esempio Questi due Erano molto più scuri Rispetto a questi A parte che ha un odore che mi fa impazzire Comunque anche questa è fatta molto bene Il problema è i colori Questa di Shimmer Ce ne ha soltanto 3 Il resto è tutto matt Io però ancora non l'ho usata Vi farò sapere Come colorazione Non è troppo uguale alla realtà Strano perché di solito sono veramente Identici come colori Questa è stata una delle poche Che invece è stata una ciofea Come colori Comunque la userò E poi vi farò sapere Va bene bambolone Dai Sono stata abbastanza esordiente Vi faccio l'altro video Che è così Ve lo metto subito Perché ci tengo ed è importante Io Vi mando un bacio Vi devo fare Le unghie Ho la lampada dal mio pub E questa cosa mi fa impazzire Mi vorrei fare delle unghie così Perché sarebbe l'unico momento in cui le posso fare Perché poi il giorno che poi tornerò al lavoro Non posso tenere le unghie Visto che adesso le posso dire Me le vorrei fare Di quelle belle appunto Mi carbano a me Però Ok Io vi mando un bacio Ringrazio un sacco di ragazze Come Miss Penny Elena Insomma Ce n'è diverse Che io devo essere sincera Non credevo che mi guardassero Invece loro mi hanno detto che mi guardano Comunque Sono contenta che sono tornata Io vi lovo Vi mando tanti baci Fatevi bravi Vediamo Ciao Ciao, love.